Vediamo cosa è successo con la preposizione molto molto usata in latino, la preposizione DE. Concentriamoci sulle tre funzioni più importanti. Caesar de Victoria Dickit Abbiamo un argomento, Victoria. Statua de Marmor Fatta Abbiamo una materia, Marmore, De Vuita de Chedere Abbiamo un luogo, Vuita e un movimento, De Chedere E quale preposizione si usa in italiano? Cesar parla di Vittoria Una statua di Marmo Allontanarsi dalla vita Quindi c'è la preposizione DI in connessione con un argomento o una materia Ma la preposizione DA quando c'è un allontanamento da qualcosa In questa versione estesa voglio mostrarvi altre quattro funzioni della preposizione DE in latino Mostro anche quale preposizione è necessaria in italiano Numero uno, la preposizione DE può indicare l'ascendenza, l'origine, la posizione nella società e un complemento di origine Omo dei plebe L'uomo, una persona del popolo Numero due, la preposizione DE può indicare un complemento partitivo Nessuno di voi Numero tre, la preposizione DE può indicare un complemento di tempo Multa di nocte venire Venire durante la notte Numero quattro, la preposizione DE può indicare un complemento di causa Qua de causa Caisar o Cisus est? Per questo motivo Cesar fu ucciso Nel primo video sulla preposizione DE ho detto E' molto importante La preposizione DE non esiste in italiano Ma ho ricevuto due commenti che dimostrano che la preposizione latina DE esiste ancora in italiano Giuliano Radice spiega che DE esiste anche in italiano nei cognomi delle famiglie nobili Ad esempio, Rossi diventava DE Rossi Rafael González spiega che il DE in italiano esiste per mettere in evidenza la parola successiva Ad esempio, ti ho prestato il libro dei Promessi Sposi Mi piace molto quanto posso mostrare commenti così interessanti in un video E come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanella